Sono queste le nuove maglie della SSC Napoli, vedete la trama con la N su tutta la texture, questa invece è la novità più importante, le maniche con le tre gradazioni di colore blu, blu scuro e azzurro, questa invece è la maglia dei portie, una delle due divise dei portieri Fucsia, senza invece la trama con la N, devo dire che sono molto molto belle, questo invece è uno degli stand ufficiali con tutte le maglie, questa è quella bianca, l'altra maglia verde dei portieri, grazie anche agli addetti alle vendite qui che gentilissimamente ce la mostrano nel dettaglio, sempre con la N nella texture, quindi con il rosso della lette sempre preponderante, cosa che tra l'altro come abbiamo approfondito prima ha fatto addestato non poche polemiche fra i tifosi e quindi sono queste appunto le nuove divise di gioco della stagione 2022-2023 della SSC Napoli, via!